Samp, imbattuta da cinque turni, ultima sconfitta subita a Siena il 20 gennaio scorso. Con due soli gol subiti, la Sampdoria ha la miglior difesa del girone di ritorno. 17 precedenti assoluti al Ferraris, 10 vittorie della Samp, 3 pareggi e 4 successi del Parma. Due gol di Lorenzo De Silvestri in carriera al Parma, la sua vittima preferita. Quattro gol in campionato per Eder, che segnò su rigore nella gara di andata. Nella col Parma sarà la terza partita blucerchiata diretta in questo campionato dall'arbitro Valeri, che diresse il 2-2 di Firenze e la vittoria blucerchiata allo Juventus Stadium. Grazie.